Sì, no, tranquillo, vai, vai Ok, eh, non la posso abbottonare così Ok, sì Intanto questa gravatta l'ho usata per portare Hogwarts Legacy, ragazzi Non so se ve lo ricordate Solo per i real Ok, sì, metto così Remove step Ok, sì Poi passo questa, la tiro, sì La prendo così Sì Eh, dai, cosa devo fare? Ok, sì Tra l'altro c'ho le cuffie, scomodi La passo sopra? Ok, va bene Ok, così Perfetto E ora? No, che ha fatto? Aspetta Grazie Raffaele, grazie per il sub, Bisco, grazie per il sub Così Cappella bagnata, madonna, te l'asciugo con la lingua Grazie per il sub, benvenuto No No, non è merda sulla sedia Vi ho detto, mi è caduto il cibo E non so come lo devo pulire Perché la devo aprire Ho provato già con la pezza e lo smacchiatore Non fa Quindi devo toglierla e metterla in lavatrice Ma ho paura Vabbè, ti dico Teo, grazie per i tre, ciche, grazie per il sub L'ho fatta al contrario Ma ti pare che cacco sulla sedia? Ma porca troia Per i 50 Aspetta, aspetta, aspetta Ah, no, no, è giusto È giusto Vabbè Tutto è possibile, Serena Ma che cazzo dici? È simile, è simile Che stai facendo tu? Lascio sta, marzo Ma vuoi il tutorial per... Mi stanno trozzando Aspetta Come grazie per i 100 Ok Per conto ho stretto un casino, no, regà Grazie per i 2 Ok Io porto rispetto alle donne Anche agli uomini ogni tanto Meno però No, 29 da moscio Grazie, Ted Grazie per i 29 Vabbè dai È accettabile Sembri sempre più il K Pezzo di merda Non mi dire mai più Una roba del genere Che ti venga a cercare Porco Dio Per il treno dorato Vi ricordo 100 bit Il vostro sub Uno giftato Ci avete per 24 ore Poi le mot Della K dorata Alex, Gasperi 16 Cambio Gasperi 32 Andre, Gasperi 14 Vado, marzo Sono un fenomeno Ho fatto un nodo alla cravatta Che non c'ha senso Che non c'ha senso La cosa un' notification La cosa un' somima